Un saluto agli amici di Trabi Meteo da Stefania Cattaneo. La depressione dei giorni scorsi si muove verso est e quindi rinnova ancora tempo instabile su Adriatiche e parte del sud mentre prosegue il bel tempo al nord e sulle regioni tirreniche. Per saperne di più su questo e tanto altro e quindi gli aggiornamenti in temporale basta scaricare l'applicazione gratuita di Trabi Meteo che è facilmente rintracciabile negli store. Approfondiamo insieme le temperature e partiamo dalle minime che sono stabili o comunque in ulteriore calo con valori compresi tra i 7 e i 13 gradi al centro nord e tra gli 11 e i 17 gradi al sud. Per quanto riguarda le massime rimarranno stazionari o comunque in lieve rialzo al nord est come vedete con valori generalmente compresi tra i 16 e i 22 gradi punte localmente superiori in Sardegna. Entrando nel particolare del nord Italia vi segnalo che si rinforza l'alta pressione quindi sarà garanzia di un'altra bella giornata soleggiata con cieli in prevalenza, sereni ovunque salvo poche e residui nubi al nord est e qualche velatura in arrivo la sera anche al nord ovest. Spostandoci al centro Italia sarà ancora una giornata incerta sulle regioni adriatiche con qualche pioggia in assorbimento comunque entro fine giornata dal nord. Bello invece altrove salvo maggiore variabilità sull'appennino laziale e qui potremo trovare anche qualche fiocco di neve dai 1500-1600 metri. Andando al sud Italia vediamo che ci avremo purtroppo residua instabilità su nord Sicilia, Puglia e dorsale campano ma anche stretto e ioniche con qualche acquazzone a carattere sparso. Mentre andrà meglio altrove con tempo asciutto e schiarite localmente anche ampia e mentre avremo bel tempo per tutto il giorno sulla nostra Sardegna. Aggiornamenti in tempo reale scaricando l'applicazione di Trebi Meteo.